La tela che l'antiguario aveva preso a Città di Castello, prima di fare il furto ovviamente, quella è stata trovata in serie di perquisizione quando i carabinieri di Levane sono andati in canonica. C'è anche un parroco del Valdarno Arettino tra i denunciati nell'ambito dell'operazione portata avanti dai carabinieri di Levane in collaborazione con i colleghi di San Giovanni Valdarno e il nucleo tutela patrimonio artistico dell'arma. Quattro lettere del 600 recuperate parruccate di scuola napoletana, rubate nell'abitazione di un noto avvocato di Città di Castello e rivendute da un noto antiquario di Montevarchia al parroco ad un decimo del loro valore. Il valore dei quadri è approssimativamente, in base alla dichiarazione fatta dal denunciante, intorno ai 90.000 euro, ma i quadri stessi sono stati acquistati per un valore complessivo di 10.000 euro. Tutto era partito dalla denuncia del furto della scorsa estate. Le meticolose indagini hanno portato al ritrovamento di una prima tela nella canonica del prete che poi ha consegnato spontaneamente le altre tre. L'antiquario è stato arrestato, si trova adesso ai domiciliari. I suoi complici, che materialmente hanno rubato le tele, hanno l'obbligo di dimora e il parroco è stato denunciato per ricettazione. Sul conto dell'acquirente, il procedimento penale è rimasto in carico alla Procura della Repubblica di Arezzo che sta valutando le eventuali determinazioni. Ma il lavoro delle forze dell'ordine non si è esaurito qui. In una seconda operazione di servizio, i carabinieri sono infatti riusciti a rintracciare tutti i libri trafugati in un furto messo a segno nel mese di febbraio 2017 in una villa di una signora montevarchina. In effetti, come potete vedere, sono riusciti a recuperare anche dei libri del Cinquecento in provincia di Caserta, è una realtà operativa particolarmente sensibile trafugati qui a Montevarchi e attraverso sempre attività di indagine individuato il ricettatore, perquisito direttamente in provincia di Caserta e recuperato la maggior parte dei libri che sono del Cinquecento e che hanno un valore artistico ed economico di un certo spessore.